ZTL nel centro storico di Porto Gruaro, l'assessore farà parte poi del gruppo di lavoro appunto con l'assessore Simone, l'assessore Berlotto. Che cosa farete dal canto vostro con il vostro assessorato? Beh, allora, assessorato di attività produttive, quello che bisogna rilevare con questa nostra azione e ordinanza è che riportiamo al centro, diciamo, la soluzione dei problemi per i commercianti, per il centro storico e anche per la vivibilità che deve avere questo centro storico per la cittadinanza intera. Quindi, con l'ordinanza di oggi, liberiamo e cerchiamo di aiutare attraverso questa iniziativa i commercianti ad avere strumenti per combattere questa crisi della domanda interna, perché è di questo che dobbiamo parlare, fin tanto che andremo a sviluppare queste iniziative e ci auguriamo, in collaborazione con le associazioni commerciali, per creare e rendere qualificato e vivibile il nostro centro storico, quindi con la primavera ovviamente del 2014. Con l'assessore Rett cercherete quindi di dare vita ulteriormente al centro città? Sì, assolutamente. Beh, innanzitutto come assessorato al commercio noi abbiamo anche presentato un bando per la legge commercio in cui, in maniera sinergica, si sviluppano iniziative di eventi, di cultura, con le associazioni di categoria, così come con la Fondazione Santa Cecilia, proprio per fare in modo che qualunque iniziativa legata non solo al centro storico ma alla cittadinanza sia un'iniziativa di promozione, di opere infrastrutturali, qualcosa di sinergico che ci consenta, ripeto, di lavorare su questa domanda interna che ferma e che richiede una rimozione di ostacoli ben diversi che arrivano dal governo centrale. Parlo dell'aumento dell'IVA che non deve essere fatto piuttosto che di un abbattimento dei costi per le imprese e per le aziende. Questi sono gli elementi che possono veramente aiutare in maniera sostanziale la rimozione degli ostacoli per i commercianti. Non certo, diciamo, ulteriori richieste che in questo momento ci sono che sono assolutamente legittime ma rispetto all'ordinanza di oggi credo non abbiano più un peso reale di limitazione per i commercianti o quello che è. La Giunta fa un piccolo passo indietro per un segno di apertura verso le attività commerciali? Beh, diciamo che è un passo avanti, nel senso che noi abbiamo sperimentato la ZTL, abbiamo visto assieme quali potrebbero essere gli adattamenti, li abbiamo fatti in un primo momento in versione di San Nicolò, parcheggi gratuiti su via Martinelli e via Valle. Sulle segnaletiche abbiamo un progetto che adesso finalmente ha completamento di preventivi e quindi verrà sviluppato anche quello per fare in modo che ci sia un'accessibilità al centro storico più chiara e quindi è un andare avanti insieme, dialogando con delle iniziative che più che un passo indietro, appunto, ripeto, sono un passo avanti in questa necessità di capirsi, trovare delle soluzioni e quindi arrivare a quello che è poi l'interesse di tutti, cioè Porto Croaro e la sua promozione, il suo sviluppo, la sua valorizzazione.